Nella notte del 1 agosto l'esercito russo ha bombardato 8 volte con l'artiglieria il villaggio di Bilenk, situato vicino alla riva del lago artificiale di Kakovka. Una donna ha riportato ferite da schegge ed è stato necessario operarla, ma la prognosi rimane riservata e non si ha notizia delle sue condizioni. Nell'attacco sono state anche danneggiate diverse case e infrastrutture. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato giovedì che l'Ucraina e i suoi partner stanno lavorando a nuovi accordi sulla sicurezza internazionale. Nel suo discorso, Serale, il leader ucraino ha sottolineato che gli accordi saranno firmati ad agosto. Domani inizieremo i negoziati con un altro paese europeo, stiamo anche preparando le visite dei leader in Ucraina e quindi il contenuto dei nostri negoziati ha aggiunto. Intanto Novorodivka, nella regione di Donetsk, ancora soffre per le conseguenze del primo bombardamento russo avvenuto il 30 novembre dello scorso anno. Al tempo la linea del fronte era a 25 km dalla città, oggi invece attraversa la comunità. La città non ha il gas dal 2022 e l'approvvigionamento idrico centralizzato dall'anno scorso.